La protesta contro i licenziamenti e l'aumento delle tasse è di nuovo degenerata nel nord-ovest della Francia. Gruppi di manifestanti si sono scontrati con la polizia a Camper in Bretagna nel corso di un corteo al quale hanno partecipato circa 15.000 lavoratori dell'agroalimentare. Al centro della disputa c'è soprattutto la cosiddetta ecotassa imposta sui trasporti su gomma che il governo ha sospeso martedì in seguito alle violente manifestazioni delle scorse settimane. Protagonisti della mobilitazione in un settore che aveva finora resistito alla crisi, i berretti rossi, reminiscenza della rivolta del XVII secolo contro le politiche fiscali di Luigi XIV. Sul banco degli imputati c'era il presidente François Hollande, ma è così in basso nei sondaggi.